Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Colonists. Allora ragazzi, siamo sempre in questa ultima missione e stiamo arrivando un pochettino verso la fase finale. Ci sono ancora molte cose da ricercare, ci sono ancora dei problemi da risolvere, ma sostanzialmente siamo arrivati a livello 3 e stiamo procedendo abbastanza in fretta verso di esso, per così dire. E quello che però, cioè quello di cui ancora non sono molto contento però, è l'efficienza della produzione di pane e della produzione di mattoni, ok? Allo stato attuale delle cose, io mi sa tanto che... Ma intanto vediamo un po' se... Ah, qui la produzione di energia sta andando avanti, è ricominciata, molto bene, molto bene. Ok, ok. Allora, dov'è che si è creato il traffico? Qui, giustamente. Allora, io farei una cosa, effettivamente. Una cosa che avrei dovuto fare già un po' di tempo fa. Qui le bakery non vanno tanto bene, onestamente. Pensavo di avvicinarle un po' qui. Non so se è una buona idea. Non so proprio se è una buona idea farlo. Perché comunque il flusso di risorse è abbastanza buono. Il clay qua sta arrivando, un po' alla volta viene portato. Ecco, vabbè, una cosa che sicuramente farò sarà... Brickyard... No, vabbè. Le Brickyard farle qui. Un po' più vicino. Secondo me vale la pena accorciare un pochettino la strada. Quanto Planks e Stone non dovrebbero costituire un problema, insomma. Adesso le cose sono migliorate, eh, cioè... Però... Però... Insomma, come vedete ancora qua... C'è un po' da fare. Finalmente... Stanno facendo gli upgrade ai Residence qua, che sono rimasti bloccati per veramente un sacco di tempo. Iron Workshop... Io... Direi che possiamo... Non lo so, forse... Sì, dai, dai, facciamola, facciamola. Quanto porta i libri, porta l'energia... Cosa c'è rimasto qua ancora? Eh, sì, sempre mattoni, giusto? Non c'è bisogno di clay... Oh, ok, ok, aspetta, questo è stato fatto, ok. Via. Via. Porta soltanto lì. Oh, bene. Anche questa shaft mine è stata upgradeata al massimo. No, aspetta, aspetta. Eh, però... Secondo me... È il caso di liberarsi di un pochettino di questa energia, perché... In tutta onestà... Vediamo un po'? Cioè, ecco, esattamente, guarda, lo sospettavo. Lo sospettavo. Lo sospettavo proprio. Come si fa a distruggere in blocco questa energia? Ok... No, non... Vabbè. Non so se c'è un comando veloce per distruggere. Però vabbè. Con un po' di pazienza lo faccio qua a mano... Eh, dai. Questo faciliterà un pochettino le cose. Avrei dovuto consumarla un po'. Oh, l'upgrade a Residence è stato fatto. Adesso, la produzione di mattoni dovrebbe andare leggermente più veloce. Quanto clay in realtà sta arrivando? No. Ah, non c'è abbastanza energia qua. Non va bene. Qui il traffico sta per risolversi un po', perché comunque adesso di farina ne sta arrivando una freca. Per così dire. Sì, mi sa che queste due bakery le sposterò. Sì, ho deciso. Ho appena preso questa decisione. Oddio, spero di non dover fare un'altra torre qua apposta. Ma mi sa tanto che dovrò. Per sicurezza. Se non altro. Proprio un sentierino proprio semplice semplice così tanto per. La produzione di pelle va benissimo. Ah, qua è stato svuotato. Benissimo, benissimo. Ah, vabbè. Sì, il pane ancora non è che sia proprio... Infatti comincia a scarseggiare un po'. Ok, a posto. Eh, queste bakery, vabbè. Prima di farle ci vorrà un po'. Appena sono state fatte, distruggo queste due. E probabilmente... Sì. Anche questa. O c'è un posto ancora più vicino in cui farla? No. Probabilmente qui non va bene. Però qui magari sì. Sì, dai. Beh, sicuramente più vicino. Poi, il pane una volta prodotto. Lo si fa arrivare. Qui va bene, qui va bene. Ehm. Ehm, no, dov'è? Ah, qui? Vabbè, perché no? Perché no? Ok. Aspetta, dove sta portando quest'acqua? Ok. Può essere utile fare così. Può essere utile fare così. Quindi... Dai. Più ora ancora un pochettino di pazienza. E poi vediamo... Beh, dai, il problema è l'energia. Ma il problema è che non ho due miniere. E' questo il problema. Mi sarebbero servite. Mi sarebbero servite. Mi sarebbero servito. mi distruggo giusto qualcuna giusto per avere un po' di scorte a disposizione ok vediamo un po' queste bakery quando vengono fatte alleggerirà il traffico e oh construction 3 è stato ricercato molto bene printing facciamo questo intanto bam tools e vabbè si dai dovrebbe esserci tutto benissimo benissimo i mattoni un po' alla volta stanno arrivando però ancora è troppo poco decisamente serve un altro upgrade qui abbiamo un altro po' di energia qui anche se ovviamente non è quello il problema questa energia l2 purtroppo non mi serve più da nessuna parte oddio potrei fare una cosa però intelligentemente lumberjack hut di livello 2 sì bam l'altro sono le stone planks perfetto senza mattoni una buona idea e la lascio stare e la lascio stare lei piano piano consumerà tutto allora qua un po' di strada super veloce è stata fatta ed è molto bene allora una qui è stata fatta quindi una posso toglierla via e mancano pochissimi mattoni c'è necessità di energia ma sono assolutamente certo che il problema non sia il numero dei residence bakery e bakery fatte perfetto via e via a posto adesso l'efficienza dovrebbe leggermente aumentare vabbè lo so che qua c'è traffico lo so però la creazione di mattoni è ancora lenta purtroppo di fatto è così vai vai consuma la tua energia l2e già già consumata se che adesso comincerà ad arrivare da altri posti bene così me ne libero poi quando non c'è più lo levo semplicemente così in questa maniera mi sono liberato dell'energia l2 sfruttandola in maniera più sensata di quella che ho fatto prima già purtroppo si è andato un po' così qui non c'è carta e vabbè si va cominciate ad arrivare pure qua un po' levera questa e poi basta ah ok noi ci siamo quasi e poi basta mi sa che smetto di fare ricerche perché non vedo che altro beneficio io abbia nel fare che ne so printing non non c'è nessun beneficio nel fare altro ho fatto tutto quello che serviva ancora un attimino di pazienza e poi sarà per noi il momento di fare i monumenti sì probabilmente li farò qua entrambi una volta risolto un po' questo problema però ehm floor qui questo lo levo non ha alcun senso anzi mi sa che ci sto mettendo il pane no 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 lo levo via e qua arriva il pane ok oh qua si sta accumulando un pochettino di farina un pochettino di clay in maniera abbastanza continua quindi insomma dai dovrebbe essere una buona cosa no oh guarda sta venendo portato pure per fare le strade bene continuate continuate per l'amor di dio fate ok dai ogni casellina di strada fatta in più qui è un assoluto beneficio all'efficienza qui c'è veramente un sacco di farina ma tantissima sta venendo portata veramente in continuazione la roba ma proprio a rotta di collo quindi dai mi sta bene eeeh si è creato il traffico qui stavolta vabbè un po' è anche comprensibile in effetti mi è venuto in mente che per alleggerire leggermente il traffico qua potrei fare un piccolo storage yard qui soltanto con il carbone ah non serve la la regola call any un post così il carbone ce l'hai qua davanti ne puoi prendere quanto vuoi e però aspetta che si mi serve uno storage di acqua anche effettivamente questo è qua molto più importante anzi in realtà vai 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 produci piano 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 la cosa si velocizzerà tu adesso però priori 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 prioritizza anche questo ok si iron workshop lo so oh dai che arriva l'acqua molto bene eh si qua si è creato il super traffico così deve assolutamente fare la strada qui ma proprio assolutamente dov'era l'altro road layer ah si giusto eh priority vai un po' qua ok guarda la farina si sta accumulando molto bene molto bene il clay no ma era era comprensibile c'è traffico qui sì ancora ce n'è decisamente però scusa priority assolutamente fino a qui di qua poca roba poco o niente dai arriva questo svincolo e già è tanto ma però già è tanto così sì infatti è migliorata la situazione ma proprio senza dubbio molto bene molto bene abbiamo fatto più o meno tutto quello che ci serviva a fare oh perfetto finita tutta l'energia via ancora il pane non ancora non è sufficiente ma davvero ancora non è sufficiente non ci volevo mica credere ma quanto pare ah quindi si può fare qui ok facciamo un'altra bakery forse sono un po' lente perché effettivamente combinano tre ingredienti diversi servono tanti di ingredienti diversi si la farina arriva un po' pianino quindi vabbè perché giustamente c'è anche un limite al traffico che può esserci in strada sto poveretto a fare su e giù non può andare più veloce di così e ci sono anche altre risorse forse anche questo è il problema però altre risorse ci sono per forza perché il carbone e l'acqua ci devono essere e credo che non ci sia molto altro però è migliorata come sta andando qui yes yes sta andando molto bene guarda in tutta onestà io farei l'upgrade anche qua quanto inutile sia che è zzzzz ah non c'è il pane già bene ho finito anche la bakery ora l'output di pane dovrebbe migliorare qua la strada è stata praticamente tutta fatta manca proprio una casellina che cambia veramente poco va bene ragazzi dai adesso bando alle ciance direi che è davvero il momento di fare un large monument vai intanto uno e vediamo un po' ah non c'ho l'oro è vero è vero oh per fortuna è quello che speravo la pietra che fa un'altra strada va bene allora io l'oro non ce l'ho ancora motivo per cui va fatto bam tor e giard di oro qui gold bam si fa in un secondo ah l'energia già è arrivata eh bricks purtroppo vabbè comunque ancora non basta è incredibile sono quattro bakery ma ne faccio un'altra ancora non so dove ma vediamo dai ma il posto me lo faccio venire in mente dove potrò mai farla vabbè effettivamente perché non perché non qui sbram sbram perché no un po' di senso ce l'ha dai ma vogliamo esagerare proprio completamente ma sì dai nel mentre qua come procede ah c'è bisogno di oro effettivamente è proprio così io nel mentre direi quindi di farne un altro ah ok ha cominciato a funzionare allora oh eh ho creato il primo oro perfetto vai mamma mia la lentezza mamma c'è quante cavolo di bakery guarda incredibile e comunque la farina c'è il carbone c'è e l'acqua c'è il che vuol dire che molto semplicemente c'è qualcosa qui che non va bam vabbè l'assenza di mattoni quella è purtroppo c'è poco da fare se non altro non servono per il large monument il che vuol dire che insomma si potrà andare abbastanza spediti effettivamente si sa che ce la faremo a finire forse oh bene vai vai comincia la produzione si il problema non sono le risorse qua di farina qua di farina ne arriva uno sproposito veramente tanta è un po' qui grazie ed è finita anche questa noi ci diamo alla produzione ok ok come procede qui sta arrivando l'oro a che ritmo viene prodotto non è che rimani senza energia tu no vabbè viene creata viene creata madonna madonna hanno funzionato più bakery ma io non pensavo assolutamente di doverne fare così tante minchia sanno funzionato ok va bene a sto punto boh vogliamo super esagerare perché no in fondo perché no bam eh non ci sono più planks giustamente vedete allora ho creato la bakery è arrivata l'acqua sta arrivando il carbone probabilmente mo arriverà pure adesso appena appena chiudono bene questo snodo qua perché questa è veramente la strada di base sta a due livelli indietro eccola qua dai che arriva mancano un paio vedete è già arrivata un po' di farina dai che arriva dai che arriva perfetto i mattoni troppi ne arrivano effettivamente a un ritmo che non è malissimo qua ah ho ricominciato cioè questo lo storage yard è pieno ancora e ancora non sono riuscito a fare abbastanza bakery è incredibile è assurdo è veramente assurdo sapete una cosa io completamente per ridere quasi quasi è assurdo Voglio provare a fare una cosa. Voglio assolutamente provare a fare una cosa. BAM, dai che arriva. A posto. Arbor. Uno qui. E uno qui. SBAM. E... Ma qui, SBAM. Planks. Con calma ce lo costruiamo. Ecco che arriva. A fare l'upgrade. Questa poca roba, onestamente. Eh, si deve arrivare la pietra, lo so. Arrivare un po' lontanuccio. Ok. Ok. Questo arbor è stato fatto. Ora... Bisogna costruire una nave. Guarda che figata. No, sono svariatissime puntate che non vedo i mattoni messi da parte. Che figo. Oh, ma qua abbiamo praticamente finito. Oh, sbaglio. Ah, qua sì, sta arrivando l'energia. Ma mi sa che... Quello che ho fatto non serve assolutamente a niente. Perché molto semplicemente vinceremo prima. Mi sa. Non c'è abbastanza... Cioè, nonostante tutto, non c'è abbastanza pane? Ah, no, ok. Adesso cominciano ad esserci abbastanza farina. Eh, vabbè. Vorrei anche ben vedere. Ho fatto una quantità di bakery sconosciuta all'umanità. Mi avevo noto un'idea, però. Così alleggerisce un pochettino questo... Questo punto, mi sa. Forse. Sì. Oh, grande. Allora. Maya e Torri. Conferma. Vai. Cosa l'acqua? Ma... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Fermi. No, per carità. Fermi, 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 fermi. 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 Pesce. Fermi. Che altro si deve fermare? Fermi. No, questo non ha alcun senso. ok planks ma sono cominciano arrivare il caso non fosse chiaro il mio obiettivo era far transitar gli iron ore c'è scusate il clay da quest'altro porto in modo che si alleggerisse la pressione su questa parte qua ma mi sa che non è quello il problema vero già sì decisamente non è quello il problema il problema che adesso con tutte queste bakery è finita la farina già vabbè non ci lamentiamo non ci lamentiamo perché abbiamo praticamente finito no non è vero più grano ancora non so dove farlo assolutamente non so dove farlo ok aspetta un large monument però finito e manca eh sì glass che vuol dire che manca energia qui prioritize assolutamente quindi l'energia se deve arrivare deve arrivare qui neanche abbastanza in fretta ok sta cominciando arrivare ok bene ho tirato fuori altro quarzo allora ragazzi io direi facciamo una puntata un pochettino più lunga e cerchiamo di terminarla qui dai perché se no che stiamo a fa' fino a qua fino a qua a breve dovrebbe cominciare arrivare un po' esatto eccolo qua che sta arrivando è arrivato pure di qua guarda un po' di pazienza ragazzi un po' di pazienza e mi sa che chiudiamo oggi arriva l'energia arriva l'energia sì non decisamente non faccio abbastanza grano molto semplicemente qui non è sufficiente lo spazio non va bene potrei provare giusto per farne una che faccio ci provo questa questa cosa senza senso no non funziona butta 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 via no per carità di dio vabbè dai però 27 su 80 adesso piano piano no oh perfetto questa zona è bella pronta e sta producendo un ottimo ritmo più o meno eh potrebbe produrre un ritmo migliore però eh non ci possiamo lamentare non ci possiamo lamentare ragazzi dai che ci stiamo avvicinando alla fine eh lo so si è rallentato pure la produzione di mattoni adesso giustamente però eh che bisogna fare purtroppo è un po' così ah beh il fatto che ancora ci sia un po' di traffico qua mi lascia ben sperare il tuo porto è stato un sacco inutile vero? menti quanti ce ne sono qua? ventiquattro porca miseria mi sono riempito di mattoni beh e allora un altro road layer eh insomma mi sembra adeguato no? no sono ancora tante strade da fare che possono aiutare come siamo messi qui? 53 su 80 quasi va benissimo va benissimo così ok perfetto ecco che arriva nooo porca miseria perché sono idiota? vai 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 fai l'upgrade a posto vai 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 parti fai il tuo lavoro molto bene come siamo messi qui? dai manca poco il ritmo adesso va un po' meglio dunque qua il quarzo sta arrivando a un ritmo decente e questo è sempre indaffarato perciò oddio il problema è quasi più il carbone che a proposito come mai il problema è quasi più il carbone? com'è sta storia? completamente senza senso però in attesa di qualcosa di meglio vabbè manca pochissimo ragazzi ci siamo ci siamo puntata un po' più lunga ma capirete che ne valeva la pena molto bene eh mo' l'energia però e abbiamo finito ragazzi finalmente finalmente ci ha voluto un bel po' ci ha voluto un bel po' ma abbiamo finito e di questa cosa sono davvero molto molto felice e con questo ragazzi termina la nostra serie canonica sul canale d'ora in poi d'ora in poi cominceranno una serie di live quando quando potrò che con cui faremo la parte militare d'accordo? considerate ragazzi che sono molto impegnato quindi le live arriveranno come vi ho detto quando e se potrò però nel corso del tempo piano piano ce le faremo d'accordo ragazzi quindi finisce la serie oggi gente grazie mille di essere stati in mia compagnia grazie di tutti i consigli che mi avete dato che in questa serie sono stati in realtà anche abbastanza preziosi devo dire e sono stati numerosi e spero di avervi intrattenuto spero di avervi mostrato questo gioco in maniera che voi vi siate divertiti abbastanza e niente ragazzi grazie che è arrivato fino a qua grazie del supporto che mi date sempre e grazie del supporto che date al canale e al gioco va bene gente noi ci vediamo domani con la recensione per lo meno lo spero e in attesa del prossimo gioco grazie ancora va bene in attesa anche delle live ci becchiamo presto e mi raccomando se ancora non siete iscritti a questo punto iscrivetevi al canale mi raccomando lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie che con oggi si conclude e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social tutti i link per supportare il canale e la playlist completa della serie se volete recuperare tutto quanto va bene ragazzi a presto con la recensione alla prossima volta